Noi abbiamo necessità di non andare prima in zona arancione, anzi prima di non avere gli ospedali pieni e dopo andare in zona arancione. Ci sono diventate una mosca bianca, anzi una mosca gialla. Alla vigilia del risponso settimanale sulla pandemia in Italia, con relativo cambio, conferma del colore che indica lo stato di salute delle singole regioni, il Veneto arriva con dati solidi, dice Zaia, anche sul fronte delle terapie intensive, perché ce ne sono mille, quelle previste per legge, 877, e quelle fatte in più, 123. Noi abbiamo dati assolutamente solidi, sia con l'R e con T, abbiamo sicuramente la situazione sotto controllo, non si discute la storia delle terapie intensive, questo lo voglio sottolineare. Seppur lentamente i dati del contagio da coronavirus in Veneto crescono ancora, aggiunge Zaia, la pressione è elevata sia sugli ospedali che sulla RSA. Per questo la Regione offrirà la possibilità a tutti gli infermieri di poter prestare la propria opera extra orario di lavoro presso le case di riposo a 35 euro l'ora. Io veramente faccio appello col cuore in mano a tutti coloro che mi stanno ascoltando, che sono il nostro personale infermieristico della Regione, che conoscono il personale infermieristico della Regione, che frequentano il personale infermieri della Regione, che vivono con infermieri della Regione, di dire guardate c'è questa possibilità, fate in modo di andare a fare un'ora, è remunerata ma è volontariato, perché le case di riposo sono in estrema sofferenza. In Veneto ci sono anche alcune piccole zone critiche. I sindaci della Valle dell'Agno hanno fatto il punto della situazione con l'assessore alla Sanità Lanzarin e il direttore generale dell'azienda sanitaria. Al momento non sono previste misure di limitazione. Altro invece è il caso in provincia di Belluno. Per Auronzo informo che è stato predisposto uno screening alla popolazione. Il target è 41-75 anni. Quindi chi ha dai 41 anni ai 75 e vive e risiede a domicilio a Auronzo. Domenica mattina dalle 9 alle 1, presso località Tagliarezze, Sirechi, basta una carta d'identità per verificare che sia in questa fascia d'età, e verrà fatto il tampone. Grazie! Grazie! Grazie a tutti